Buongiorno, eccoci alla puntata di Omnibus di questo lunedì, che sarà divisa in due parti perché tanti sono i temi che vanno affrontati. Parleremo subito di politica internazionale, di quello che è accaduto a Mosca naturalmente e di tutti i riflessi che questa vicenda ha sul complicato scenario ucraino. Ma poi parleremo anche di politica perché ci sono tanti elementi che fanno discutere a partire da quel pasticcio del discorso del Presidente della Regione Puglia, Emiliano, sul palco di Bari l'altro giorno con delle parole poi corrette e poi ulteriormente smentite dal Sindaco di Bari, De Caro. Parliamo subito di terrorismo, di mosca della guerra in Ucraina con i nostri ospiti. Buongiorno al generale Giorgio Cuzzelli che è docente di sicurezza e studi strategici alla LUMSA. Buongiorno generale. Buongiorno a lei e grazie per l'invito. Saluto Cinzia Sciuto, la condirettrice di Micromega. Ciao Cinzia con l'ultimo numero della rivista che possiamo vedere dedicata a mese di marzo e quindi donne. Ecco, forse speriamo che me la diano la prima pagina di Micromega, tutta dedicata a Liberiamoci dal Patriarcato. Buongiorno a Claudio Bertolotti, analista dell'ISPI che ci aiuterà a capire di più di questo attentato e di che cosa può rappresentare in uno scenario globale. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi, grazie. E buongiorno al professor Alessandro Campi, ospite tradizionale di Omnibus, politologo all'Università di Perugia. Bertolotti, parlo da lei. Perché il ritorno in grande stile dell'ISIS, almeno ai nostri occhi, è avvenuto proprio in Russia? Credo che in maniera estremamente sintetica le ragioni possono essere sostanzialmente riconducibili all'attività di politica estera della Russia e in particolar modo l'impegno con lo strumento militare in vari scenari, in vari teatri operativi dell'area del Grande Medio Oriente e in Africa. In primo luogo perché lo Stato Islamico è uno degli obiettivi militari del governo siriano di Bashar al-Assad al cui la Russia ha dato e sta dando un concreto supporto e in un contesto in cui lo Stato Islamico rappresenta uno dei perni principali dello jihadismo insurrezionale in Siria. Il secondo aspetto per cui la Russia è un obiettivo preferenziale per lo Stato Islamico e l'impegno attraverso i suoi attori non istituzionali, abbiamo conosciuto la Wagner ma esistono altre compagnie di sicurezza russe che continuano ad operare in maniera estremamente efficace in paesi come il Mali, il Burkina Faso dove lo Stato Islamico sta tentando di competere per il controllo territoriale delle risorse ma anche per il controllo politico nei confronti delle autorità governative. E infine un aspetto che forse tende a passare più in secondo piano ma che di fatto è sempre primario anzi forse è quello più importante è il dialogo che la Russia ha mantenuto o meglio che ha ricostruito e consolidato nel corso degli ultimi due anni con i talebani in Afghanistan. I talebani che da movimento insurrezionale sono diventati forza di governo e che oggi sono oggetto degli attacchi del franchise afghano dello Stato Islamico l'ISKP che è presente in Afghanistan dal 2014 e che oggi rappresenta la spina nel fianco del processo di normalizzazione. Mi sta dicendo che non c'è sorpresa quindi in fondo? No. Ma non dovrebbe esserci sorpresa nel senso che la Russia è il nemico dello Stato Islamico esattamente come lo è l'Occidente. La sorpresa sta nel fatto che siano riusciti a portare a compimento un attacco spettacolare al pari di quelli che abbiamo visto in Europa dal 2015 al 2017 quindi Parigi, Bruxelles ma anche altri attacchi secondari in altri paesi europei e che fino ad oggi con il marchio ISKP non aveva colpito con questa intensità nel territorio della Federazione Russa. Generale, anche questa è guerra ibrida? Lo è assolutamente ma è un qualcosa che come ha detto giustamente il dottor Bertolotti non ha mai cessato di esistere, siamo noi che ce lo siamo dimenticato perché abbiamo questa dannata abitudine di aprire una finestra e di chiuderne un'altra e quindi ci siamo illusi che con lo sciagurato ripiegamento dall'Afghanistan del 2021 di colpo la guerra contro il terrorismo, i vent'anni di guerra globale contro il terrorismo fossero finiti e abbiamo aperto un'altra finestra che si chiama Ucraina per poi chiuderla e aprirne un'altra ancora che adesso si chiama Palestina. Ora ritorniamo ad aprire la finestra terrorismo, durerà qualche mese dopodiché torneremo ad occuparci di qualcosa altro purtroppo ma questo come dice il dottor Bertolotti non nasconde una realtà che è quella di una contrapposizione frontale tra l'Occidente e la Russia in questo caso e diciamo questa galassia jihadista di cui lo Stato Islamico è il primo rappresentante allo Stato attuale. Bertolotti, poi mi ricordi che voglio approfondire anche la Cina in questa chiave quello che può essere la Cina in questo scenario islamista. Professor Campi, la strategia di Putin in tutto questo è evidente lui finge di ignorare i messaggi, le rivendicazioni, i video tutta la documentazione che l'ISIS-K, un ISIS che non è più baricentrato sul Medio Oriente ma in Asia centrale, finge di ignorare tutto questo e attribuisce la responsabilità dell'attentato all'arcinemico Kiev neonazista e ora anche terrorista ma tutto questo sarà creduto è una spiegazione che è sufficiente per i russi che lo hanno appena confermato per altri sei anni Presidente. La rielezione l'ha appena incassata quindi non ha un problema di credibilità interna dopodiché si capisce il senso di questa strategia molto cinica questa come tutte le guerre ma questa forse più di altre è una guerra di propaganda e lo è stata sin dal primo momento ovvero si è fatta propaganda per trovare giustificazioni che fossero in qualche maniera credibili per le scelte che si sono fatte dall'inizio Putin ha insistito sul fatto che bisognasse denazificare l'Ucraina quindi si è inventato un nemico ideologico che desse un senso storico addirittura epocale a questa sua scelta di una guerra d'aggressione sta facendo esattamente la stessa cosa dopodiché sanno perfettamente i russi che è un problema che non ha a che fare con il fronte dell'est ma con quello che si diceva prima cioè la loro proiezione globale che li ha fatti diventare c'è anche un elemento di paradosso in questo un nemico della galassia islamista in realtà lo stato islamico non esiste appunto è un brand è stato disarticolato nella sua configurazione territoriale esattamente come l'occidente liberale che i russi in questo momento hanno come nemico quindi il paradosso è che agli occhi degli islamisti anche la Russia è occidente fa parte di questa coenè cristiana occidentale che loro rifiutano quindi ne potrebbe nascere un altro paradosso ancora se vera l'antica regola che il nemico del mio nemico diventa che noi dovremmo essere in questo momento stretti al fianco della Russia perché abbiamo effettivamente un nemico comune adesso ha colpito la Russia però non illudiamoci che finisca qui evidentemente c'è una capacità operativa che peraltro si spiega anche con una ragione tattica che abbiamo due esperti di tattica e di strategia possono confermarlo attentati del genere sono molto spettacolari e colpiscono molto l'opinione pubblica però è anche vero che sono relativamente facili da organizzare cioè colpire nel mucchio con un piccolo gruppo di fuoco armato fino ai denti ma armato in maniera molto convenzionale non è complicatissimo ed è una tecnica che noi abbiamo visto diciamo su scala globale utilizzata molte volte anche qui attenzione che noi ricordiamo sempre le cose che ci riguardano ma un episodio molto simile fu quello che per esempio in India colpì Mumbai all'epoca le immagini fecero impressione ma era esattamente lo stesso copione le torri gemelle partiamo dalle torri gemelle lì c'è un elemento di sofisticazione tecnica maggiore qui sono semplicemente quattro persone con quattro fucili mitragliatori anche perché era la Pearl Harbor della guerra mondiale contro il terrorismo e fanno strage questo vuol dire che bisogna alzare moltissimo il livello di guardia anche nei paesi occidentali che ha ragione il generale queste vicende sono interconnesse dal punto di vista geopolitico sono parte di un caos globale che non riusciamo evidentemente a governare quindi l'idea che ci siano fronti di guerra separati che possiamo gestire politicamente e militarmente in maniera a sua volta separata è un errore di visione straordinariamente grande questo episodio ce lo dimostra si sono incuneate all'interno di un contesto di conflitto hanno scelto la Russia innanzitutto per ragioni simboliche per motivi anche evidentemente politici la Russia ha un conto aperto con gli islamisti anche nel suo territorio oltre i suoi interventi in giro per il mondo e quindi dobbiamo non allarmare i cittadini quindi avere anche una strategia comunicativa che non è esattamente quella che sta utilizzando l'Europa in questo momento che è anche un indice evidentemente di paura e di indecisione però dobbiamo sapere che continuiamo ad essere bersagli potenziali di chi ha un disegno di destabilizzazione e ormai lo porta avanti da almeno un ventennio Cinzia Asciuto al di là delle cose che diceva il dottor Bertolotti in apertura sei sorpresa di questo ritorno in grande stile del terrorismo che colpisce pur sempre diciamo tutto quello che non è islamico o islamizzabile domani nel senso che gorgogliava il terrorismo continuava a sobollire nelle sue aree diciamo così endemiche ma era lontano dalla nostra attenzione sì, penso che il meccanismo sia quello che il generale descriveva prima probabilmente anche a livello di difesa della nostra psiche tendiamo a creare dei compartimenti stagni a creare delle parentesi a chiuderle non appena possibile ma in effetti faremmo molto meglio a tenerle aperte il jihadismo islamista non ha in effetti mai smesso di colpire e di colpire vorrei precisare non tanto tutto ciò che non è islamico ma quanto tutto ciò che non è conforme all'idea di islam che portano avanti perché le principali vittime del terrorismo jihadista da sempre sono i musulmani musulmani di altre fazioni musulmani democratici, liberali e quindi non dobbiamo fare l'errore che abbiamo fatto all'indomani delle Torri Gemelle del 2001 di immaginarci questo scontro di civiltà la cui faia percorrerebbe la distinzione fra mondo delle radici cristiane e mondo musulmano perché appunto le prime vittime del terrorismo jihadista sono musulmani tra l'altro questa narrazione dello scontro di civiltà è drammaticamente saltata in aria letteralmente con l'attentato di venerdì in Russia perché appunto le contraddizioni sono molto più complicate è molto più interconnesse non c'è uno scontro fra occidente da una parte al quale appunto i terroristi associano anche la Russia che invece l'occidente vede come un nemico quindi tutto molto più complicato evitiamo le semplificazioni quello che è molto preoccupante è che tutti questi elementi concorrono come diceva poco fa il professor Campi ad aumentare la soglia di da un lato di attenzione di doverosa attenzione naturalmente da parte dei nostri paesi nei confronti dei pericoli imminenti ma anche di come dire preparazione della società civile occidentale a ipotetiche tensioni quindi questa corsa alla rimilitarizzazione questa corsa alla difesa è anche un modo per preparare la società civile a pericoli che si possono prospettare questa è una delle conseguenze che più mi preoccupa Dottor Bertolotti allora abbiamo detto dal Medio Oriente all'Asia Centrale cioè c'è stato uno spostamento del baricentro di queste formazioni islamiste cambia qualche cosa nelle caratteristiche e negli obiettivi con questo allontanamento diciamo dalla zona mediterranea per intenderci e poi c'è la Cina che volevo richiamare alla sua attenzione perché anche lì hanno problemi con le religioni con se non sono islamici con altre fedi che mettono in difficoltà anche Pechino che appare a noi in realtà un blocco unitario Sì storicamente guardiamo potremmo guardare all'evoluzione del terrorismo degli ultimi vent'anni sì l'11 settembre del 2001 ma anche gli attentati in Europa Madrid in primo luogo nel 2004 in cui ricorre il ventennale proprio in questi giorni sì esatto quel terrorismo che era un terrorismo a territoriale estremamente ideologico e transnazionale associato ad Al Qaeda ha lasciato il posto a partire dai primi anni 10 in particolar modo 2013 2014 a un nuovo fenomeno di terrorismo che distaccandosi dal modo di vedere di Al Qaeda cioè non territoriale ha imposto un modello territoriale di terrorismo e lo abbiamo conosciuto in Siria e Iraq con la sigla ISIS ISIS che però cessa di esistere formalmente nel 2014 quando Abu Bakr al-Baghdadi dichiara la nascita dello Stato Islamico che ha sì una natura territoriale in Siria e Iraq ma che guarda a quelli che sono i vecchi confini dei territori storicamente occupati dai musulmani quindi guardando anche a parte dell'Europa in particolar modo della Spagna e fino al Khorasan all'Afghanistan e al Pakistan dal 2017-18 quando la coalizione internazionale riesce a frantumare questa solidità territoriale dello Stato Islamico si ritorna a una forma di terrorismo che è solo parzialmente territoriale ma che utilizza la tecnica quasi commerciale del franchise per sposare cause locali dando però un'etichetta globalista internazionale cioè quella dello Stato Islamico che sposa sostiene quelle che sono istanze di autonomia di indipendenza di spinta insurrezionale e questo è un fenomeno che si consolida tanto in Nord Africa quanto nell'Africa subsahariana e ma ancora di più nell'area del subcontinente indiano quindi l'Afghanistan che a partire dal 2014 inizia ad essere terra estremamente fertile per nuovi gruppi insurrezionali tra i quali lo Stato Islamico della provincia del Khorasan che non è limitato all'Afghanistan ma in Afghanistan da quel momento inizia ad avere un controllo territoriale nell'area di Jalalabad nella provincia di Nangarar tra Pakistan e Afghanistan esatto fra Kabul il confine il Kiber il passo di Kiber che porta in Afghanistan ed è un in Pakistan ed è un territorio particolarmente ricco ricco in particolar modo di talco oltre che di minerali preziosi che rappresentano di fatto un bottino di guerra o un'economia sostanziale senza dimenticare in tutta questa sua disamina dottore il Caucaso che era la ferita aperta per la Russia di Putin Grozny quello che accadde per cercare di fermare i Ceceni sì esatto lì si inseriscono però elementi di conquista territoriale e di volontà di imposizione della propria volontà cioè quella russa nei confronti dei territori dell'ex Unione Sovietica non soltanto l'area caucasica ma anche le ex repubbliche centroasiatiche ma lo stesso Afghanistan rientra in questo obiettivo tant'è che nel tempo la Russia stringe sempre più rapporti con i talebani e qui andiamo alla seconda parte della sua domanda sul ruolo della Cina e qui Russia e Cina di fatto convergono sugli interessi e sulle dinamiche afghane nel momento in cui i talebani stanno cioè si si prospetta una possibilità concreta di presa del potere da parte dei talebani quindi dal 2015 in avanti la Cina e la Russia di fatto avviano dialoghi tra le parti la Cina in maniera anche più potremmo dire aggressiva o più più attiva cercando conferme in quelle che sono le già concrete i concreti investimenti in termini di sfruttamento io mi devo fermare il fuoco il fuoco questo fuoco cova anche sotto la cenere cinese mi sta dicendo assolutamente sì perché al fianco dei talebani hanno combattuto e tuttora sono presenti gli uiguri cinesi appartenenti al gruppo ETIM l'East Turkestan Islamic Movement che la Cina sta tentando di allontanare dai talebani e lo sta facendo concedendo sempre di più anche sul piano delle relazioni internazionali ai talebani ci fermiamo un istante 8 e 28 generale Cuzzelli allora l'attentato che è arrivato venerdì ha un po' messo in ombra le conclusioni del Consiglio Europeo che si occupava soprattutto di difesa comune in prospettiva per la nuova legislatura di difesa comune parliamo tra un istante io le chiedo intanto ma il conflitto in Ucraina ha i rischi di escalation che diversi esponenti dei governi mondiali penso a Macron prima di tutto ci stanno illustrando c'è il pericolo di un coinvolgimento ieri questi episodi questo missile che attraversa i cieli della Polonia per 38 secondi c'è un pericolo di coinvolgimento di altri paesi della Nato nostro dunque fermo restando che le dichiarazioni del presidente Macron possono derivare da due aspetti o la disponibilità di informazioni di cui io non dispongo e noi non disponiamo oppure in alternativa diciamo gli scontri a una situazione politica interna che lui in qualche modo deve dominare perché queste sono le due interpretazioni che si danno delle sue dichiarazioni guardando obiettivamente alla situazione non direi che ciò che sta avvenendo si discosta molto da quello che abbiamo visto negli ultimi mesi nel senso che noi abbiamo una Russia che conduce nei confronti dell'Ucraina una campagna di attrito e un'Ucraina che cerca disperatamente di difendersi a fronte di un interesse dei suoi sostenitori occidentali che sembra si vada progressivamente rarefacendo le grida d'allarme gli alti lai come si diceva un tempo che vengono lanciati sono finalizzati soprattutto ad evitare che il sostegno indispensabile all'Ucraina venga meno cioè in buona sostanza noi sventoliamo il pericolo di una sconfitta ucraina per rappresentare il fatto che se Putin vince è un disastro per tutti perché a quel punto diventa sostanzialmente incontenibile ma Putin ha vinto? non ha vinto e ne sta vincendo ma se noi non continuiamo a sostenere l'Ucraina come si deve c'è il rischio che possa prevalere che possa prevalere semplicemente in termini di attrito in termini di numeri in termini di fattori di potenza c'è il rischio che possa prevalere quindi bisogna continuare a rimanere al fianco dell'Ucraina allora a questo punto si eveca lo spettro della catastrofe per far sì che questo sostegno non venga meno Generale una domanda tecnica lei crede come si concluderà la guerra con una spartizione comunque del territorio ucraino perché la mia personale opinione che vado sostenendo ormai da quando è cominciata questa vicenda e si è visto che lo sforzo militare russo non stava assortendo gli effetti sperati la mia opinione è che si arriverà a una situazione di congelamento tipo Corea tipo 38esimo parallelo in cui di fatto le ostilità verranno sospese si entrerà in una lunghissima fase negoziale che corrisponderà in realtà a un congelamento della situazione che è poi quella situazione nel proprio estero vicino che la Russia ha cercato praticamente con tutti i conflitti sospesi che sono in atto sia nel Caucaso sia in Europa sudorientale questo è il finale riuscirà l'Ucraina a recuperare i territori perduti solo ed esclusivamente molto eventualmente nel lungo termine solo se in Russia avverrà un'evoluzione diciamo un'evoluzione del sistema politico cosa che nel breve medio termine sembra difficilmente raggiungibile io intanto saluto Francesco Maria Del Vigo il vice direttore del giornale che ci ha raggiunto ciao Francesco buongiorno buongiorno grazie per l'invito professor Campi oggi Domenico Quirico in un'analisi in un commento sulla stampa parla dello spettro dello scontro inevitabile che è qualche cosa che sta occupando il sentiment europeo scrive si ascolta nei due campi che la guerra è necessaria è inevitabile la guerra fra il blocco occidentale e la Russia perché bisogna riparare la ferita l'offesa del male che stava ovviamente tutto dall'altra parte e quindi i politici coloro che decidono si sentono disinvoltamente scaricati da ogni responsabilità dalla sacrosanta difesa dell'aggressione dell'aggredito ucraino come avveniva nella prima fase della guerra non parla più nessuno le democrazie giustificano tutto il riarmo forse è nato l'economia di guerra l'arruolamento necessario l'arsenale di tutte le barbarie possibili con la garanzia che quello che faranno i russi sarà molto peggio di quello che potremmo fare noi è una preoccupazione che dobbiamo avere? guardi se introduciamo lo spirito del 14 e lo spirito del 38 Sarajevo e poi tutto quello dai sudeti in poi diciamo infatti se introduciamo una lettura quasi teologica di questo conflitto quindi diventa una guerra del bene contro il male è chiaro che poi ci sarà un escalation apocalittica inevitabile allora bisognerebbe fare quello che ci consigliano i grandi classici del pensiero strategico di condurre questa guerra alle sue ragioni politiche e cercare di governarla politicamente non è facile ma è l'unica strada che abbiamo altrimenti diventa appunto uno scontro che non può che crescere di intensità sino al parossismo secondo me è esattamente quello che manca in questo momento lo scenario che per esempio adesso evocava il generale che purtroppo è uno scenario realistico sarebbe il peggiore perché i conflitti che non hanno una fine negoziata chiara diventano conflitti diciamo sopiti nella migliore delle ipotesi ma questo vuol dire che poi sono pronti a riaprirsi in qualunque momento e purtroppo questa è una modalità che abbiamo sperimentato molte volte nel corso del secondo novecento conflitti che non hanno trovato una soluzione e che quindi in qualunque momento possono aprirsi quindi si cicatrizza una ferita ma può sanguinare dopo dieci anni quindici anni pensiamo all'ex Jugoslavia per dire esattamente questo vuol dire che ci vuole una volontà politica che in questo momento deve essere indirizzata verso il sostegno convinto e responsabile al nostro alleato ucraino e le parole di Macron spero che vadano in quella direzione però ci deve essere una volontà altrettanto forte politica a chiudere questo conflitto su una base di realtà e quindi quando si dice che bisogna cominciare a prepararsi per capire come uscirne piuttosto che appunto disegnare scenari che sono soltanto al tempo stesso allarmistici nel senso peggiore del termine e al tempo stesso indicatori di un vuoto progettuale molto grande il consiglio europeo dell'altro giorno secondo me è stato un pessimo segnale dato dall'Europa perché tu non hai responsabilizzato i cittadini rispetto a quello che potrebbe accadere non stai preparando la società europea che viene da lunghi periodi di pace alla dura realtà del conflitto stai semplicemente dicendo che tu per primo hai paura e non sai esattamente quello che devi fare io ho letto purtroppo le parole dei nostri diciamo europeisti in doppio petto esattamente in questo modo io stamattina mi sono divertito a scrivere un pezzo sul messaggero dicendo che in questo momento forse il problema dell'Europa non sono i populisti il problema dell'Europa sono i nostri statisti che hanno come dire di fronte a sé un orizzonte che evidentemente non riescono a dominare ci sono delle buone ragioni pensiamo soltanto alla paura che sta serpeggiando relativamente a un possibile disimpegno degli Stati Uniti dal fronte europeo l'Europa si troverebbe di fronte a responsabilità che non è in grado a punto di vista politico e anche materiale di sostenere però questo è un buon motivo per restare calmi per restare soprattutto prudenti e per insistere sulla necessità che questo conflitto abbia una soluzione che deve essere militare nel breve ma politica nel medio periodo altrimenti l'escalation poi diventa come dire qualcosa che sfugge alla nostra stessa volontà questo è lo scenario peggiore che stiamo disegnando peraltro con una leggerezza che a me pare semplicemente terrificante l'uso delle parole in questo momento indica uno spaisamento totale stiamo dando per scontato quello che scontato non dovrebbe essere noi non dobbiamo buttarci in una guerra totale dobbiamo far di tutto per evitarla ma credo che tutti vogliono evitarla Cinzia Asciuto è d'accordo con il professor Campi? ma in parte in parte sì e in parte no in questo senso io penso che le parole immagino si riferisse il professor Campi in particolare alle parole di Macron fossero rivolte a due destinatari diversi uno è naturalmente Putin e l'altra è invece il pubblico interno i cittadini francesi e per estensione anche europei nel primo caso io penso che sia che sia stato invece un errore in questi due anni mostrare titubanze e tentennamenti nei confronti di Putin nel momento in cui Macron dice che non si può escludere l'invio di soldati della Nato in Ucraina fa una cosa che secondo me è come dire doverosa nei confronti di una minaccia come quella di Putin e cioè non escludere nulla in via di principio perché se tu escludi qualcosa in via di principio quel qualcosa che tu stai escludendo rappresenta un'arma in più nelle mani di Putin ricordiamo tra l'altro che Putin come dire non ha molto rispetto del diritto internazionale per cui in realtà se lui domani decide che l'attuale sostegno della Nato dei paesi Nato e occidentali all'Ucraina rappresenta una forma di cobelligeranza attiva è la sua interpretazione siamo già in teoria potenziali obiettivi non sarà certamente l'eventuale invio di soldati a determinare questo cambiamento per cui escludere in via di principio qualcosa nei confronti del confronto con Putin è uno strumento in più in mano a Putin chiaramente il punto non è che tu ti devi preparare a farla questa cosa tu devi preparare in questo sono invece d'accordo il professor Campi ti devi preparare a evitare che questo accada ma non lo puoi escludere in via di principio a livello anche proprio di propaganda se vogliamo anche a livello di comunicazione l'altro fronte a cui erano destinate le parole di Macron è il fronte interno e lì secondo me c'è invece un tentativo di preparare io vivo in Germania in Germania si torna a parlare di reintrodurre la leva obbligatoria per esempio ci sono già stati dei movimenti anche in altri paesi per la reintroduzione per l'introduzione per la prima volta della leva obbligatoria per le donne c'è uno spingere un clima di paura di minaccia di sentirsi sotto minaccia che prepara un po' la popolazione a non si sa bene che cosa su questa ragione il professor Campi perché non è affatto chiaro lo scenario che ci si prospetta il punto è che l'Europa non parla con una voce sola questo lo abbiamo detto tantissime tantissime volte i tentennamenti sono stati continui in questi due anni tornando alla Germania in cui vivo ci sono state discussioni infinite ogni volta sull'invio di armi quali armi di che tipo cose che spesso venivano escluse in via di principio inizialmente per poi essere comunque concesse dopo mesi e mesi di lunghe ed estenuanti discussioni anch'io penso come il generale che questo alzare i toni serva per evitare che il sostegno all'Ucraina vada scemando anche proprio da parte della popolazione dei paesi occidentali e un'ultima osservazione sulla strategia di Putin rispetto all'attentato di venerdì lo abbiamo visto tutti come Putin stia facendo di tutto per dirottare l'attenzione su quella che lui chiama la pista definisce la pista la pista ucraina i media indipendenti russi hanno riferito che i media invece vicini al Cremlino sono stati indotti proprio dal Cremlino a enfatizzare qualunque dettaglio che possa sostenere questa pista ucraina questo perché Putin ha bisogno disperato di non perdere il sostegno compatto della popolazione che come abbiamo visto alle recenti elezioni è davvero molto forte Putin è il nemico interno più che il nemico esterno naturalmente l'opinione pubblica ha bisogno che i russi continuino a concentrare la loro attenzione sull'Ucraina non vengano distratti da altri pericoli che lui non riesce a controllare invece in un contesto democratico fece la stessa cosa a Znarra dopo l'attentato di Atos c'è esattamente la stessa cosa generale volevo aggiungere qualcosa perché poi sento del Vigo e Bertolotti assolutamente a proposito di questa ipotetica retorica bellicista che sembra aver permeato le classi dirigenti occidentali non credo che sia retorica bellicista ovvero dobbiamo stare attenti a che non diventi retorica bellicista mi spiego meglio Sun Tzu ci dice l'arte della guerra perché l'ha detto così come se fosse uno che frequentiamo quotidianamente è molto facile vincere le guerre ma è molto più difficile vincere la pace Versailles è un esempio a riguardo nel caso dell'Ucraina in particolare la pace ad ogni costo non può voler dire che l'Ucraina deve rinunciare alla propria sovranità o alla scelta dei propri orientamenti internazionali quindi noi dobbiamo fare tutto quanto è il nostro potere per aiutare l'Ucraina a tenere Putin al suo posto Putin non deve vincere ma questo non deve vincere non vuol dire che bisogna arrivare allo scontro globale vuol dire che noi dobbiamo far comprendere alla Russia che semplicemente con le sue iniziative non sta andando da nessuna parte e continuare è controproducente per questo bisogna mantenere la pressione elevata ma contemporaneamente bisogna assolutamente come diceva il professore cercare uno spunto negoziale perché qui si tratterà di costruire una pace perché se non costruiamo una pace questo diventerà un conflitto addormentato come tanti altri e non se ne uscirà più e ne abbiamo già troppi sul carniere per quanto riguarda il discorso dell'Europa il discorso dell'Europa che la dottoressa Asciutto sottolineava con particolare riguardo alla Germania è proprio questo è quello di classi dirigenti che paiono inadeguate al compito come furono inadeguate al tempo del covid classi dirigenti che non sono in grado di condurre le proprie opinioni pubbliche verso una realtà che è quella di un confronto che prima ancora che tecnologico industriale come vorrebbe l'Europa o finanziario è un confronto di idee è un confronto di valori è sulla sfida valoriale che noi non ci siamo e questo è il problema cioè noi dobbiamo far capire alla gente che il confronto è tra due diverse visioni del mondo tra due diverse visioni del futuro e noi abbiamo una visione del futuro che è incentrata sulla libertà del singolo e sulla libertà economica gli altri hanno una visione del futuro che è incentrata su una visione collettiva e su una società oppressiva sono due visioni diverse Francesco Del Vigo però è evidente che le elezioni europee rappresenteranno un po' questa scelta vecchio passato Green Deal che è stato un po' accantonato in questo momento nuova emergenza in vista questa scelta politica che è politica ma anche in qualche maniera militare perché poi con le belle parole non si convince Putin perché questo è abbastanza evidente e poi c'è la variabile statunitense certo beh allora quello che ha detto il generale l'ultima parte del suo discorso non solo è fondamentale ma dovrebbe essere chiara a tutti e purtroppo a volte chiara non è cioè che ci sono due visioni della vita due visioni del mondo due visioni non solo dell'Europa che si contrappongono in modo netto e chiarissimo e c'è una parte solo dalla quale si deve stare al netto di tutto questo però l'Europa sembra particolarmente confusa in questo momento e secondo me è confusa proprio perché come dire l'imminente campagna elettorale sta viziando e drogando tutto il dibattito non penso solo alle parole di Macron penso a quell'immagine in bianco e nero di Macron con la t-shirt che fa come dire che si allena di boxe col muscolo teso che è evidente un messaggio fisico e corporale fatto fortunatamente dico fortunatamente da un presidente di centro-sinistra l'avessi fatto in un'altra corritura politica non so quali i chiami ci sarebbero stati penso come minimo alla battaglia del grano o a cose similari che trovo quantomeno ridicole come forme comunicative e particolarmente come dire pedestri non molto sviluppate e sofisticate però questa è la campagna elettorale la poca sofisticazione di questa campagna elettorale e di tutte le campagne elettorali direi lì c'è il professor Campi che è molto più esperto di me quindi magari sto cadendo in errore però la campagna elettorale essendo un sistema semplificativo e semplificatorio della realtà finisce per forza per restituirci come dire delle analisi molto banali di sistemi che in questo caso sono molto complessi perché oltre allo scontro che è in atto appunto tra la Russia e l'Ucraina si è aggiunto un terzo nemico che è ritornato un terzo nemico che è quello dell'Isis per cui io credo e spero che come dire si risolva il più velocemente possibile questa campagna elettorale per poter tornare a una visione unica e razionale europea di quello che sta succedendo unica e razionale europea però come dove e quando nel senso bisogna vedere quale sarà la compagine governativa che uscirà da queste elezioni europee e quale saranno le priorità di questa nuova Europa prima citavo il Green Deal ecco probabilmente la scollatura la divergazione che c'è tra molti cittadini e l'Europa questo tipo di Europa è dovuta a tematiche che sono state trattate ossessivamente molto distaccate da quelli che sono i bisogni e le necessità dei cittadini se parlato io credo facendo un calcolo come dire spannometrico approssimativo di Green Deal negli ultimi 7, 8, 9, 10, 12 mesi molto più di quanto si sarebbe dovuto parlare di stato sociale di welfare oppure di sicurezza di sicurezza europea di esercito unico europeo di difesa comune europea del fatto che i cittadini europei non amano sentirselo dire ma abbiamo visto purtroppo l'altro giorno vicino a casa nostra non solo c'è un dittatore un autocrate un dittatore molto pericoloso per il nostro stile di vita e per le nostre vite stesse ma c'è anche un terrorismo strisciante che si avvicina sempre di più a noi e pensare in questo momento che per quello che dicevo prima il generale Mosca sia diversissima dall'occidente sia diversissima da noi vuol dire girare la testa da un'altra parte Mosca in questo momento è stato un versaglio così come possiamo ancora esserlo noi della furia del terrorismo islamico cosa della quale c'eravamo totalmente dimenticati e il fatto che Putin sia tra virgolette un nostro nemico in questo momento non deve farci abbassare la guardia nei confronti di quello che è un nemico di Putin ma è anche e ancora di più nostro che appunto il terrorismo islamico a proposito di terrorismo islamico torniamo all'inizio del nostro discorso dottor Bertolotti che cosa ci possiamo aspettare nuove azioni spettacolari e potenti in Russia ma anche fuori dalla Russia da parte dell'ISIS-K che è la variabile che è la come dire la formazione in questo momento che ci preoccupa di più allora per quanto riguarda il terrorismo spettacolare l'Europa è stata caratterizzata negli ultimi anni da una serie di eventi importanti ora come ha evidenziato il rapporto REACT cioè l'osservatorio sul radicalismo in contrasto al terrorismo ad ogni azione spettacolare che ha ottenuto un'alta attenzione mediatica sono eseguite una serie di azioni secondarie emulative spesso anche fallimentari che però non hanno limitato la capacità di colpire da parte del terrorismo jihadista che si rifà allo Stato islamico lei cosa si attende lei cosa si attende il rischio è l'avvento non l'avvento il ripetersi di eventi secondari che andranno a scemare con il passare del tempo fino a quando un evento di nuovo primario quindi che otterrà tensione mediatica in virtù degli effetti ottenuti glielo chiedo esplicitamente Mosca è come dire sono le torri gemelle cioè il massimo dello sforzo di azione di questa nuova forma di terrorismo oppure siamo all'escalation possiamo ipotizzare un'escalation guardando al trend degli ultimi anni possiamo dire che i numeri sono costanti e anche questo evento rientra nel trend degli ultimi sei anni per cui non c'è un'amplificazione del fenomeno c'è un'amplificazione dell'immagine del fenomeno e certo dei risultati ottenuti con un singolo attacco ma l'organizzazione dello Stato islamico come l'abbiamo conosciuta nel 2015 oggi non esiste più infatti l'evento i risultati ottenuti da questo attentato terroristico sono stati ottenuti con l'utilizzo di quattro fucili d'assalto e non con l'utilizzo di esplosivi giubetti esplosivi ed altre tipologie di equipaggiamenti che invece abbiamo visto correttissimo altra cosa altra cosa che credo interessi a tutti lei sulla base della sua esperienza delle osservazioni delle analisi che state facendo pensa che anche l'Europa occidentale possa diventare bersaglio di questo tipo di azioni o il nemico era mirato stavolta l'Europa è non ha mai cessato di essere un obiettivo del terrorismo jihadista semplicemente gli eventi registrati in Europa hanno avuto una minore intensità un minore impatto mediatico anche in virtù di numeri minori in termini di morti grazie al dottor Bertolotti grazie al generale Cuzzelli noi ci fermiamo un istante e torniamo dopo la pubblicità per parlare di politica fra poco 8 e 56 buongiorno a Giovanna Vitale della Repubblica benvenuta e buongiorno a Mimmo Mazza che è il direttore della gazzetta del Mezzogiorno il quotidiano di Bari della Puglia buongiorno anche a te direttore buongiorno a tutti allora la vediamo di nuovo questa frase famosa di Emiliano sentiamolo da qui è partito tutto e quando Antonio divenne assessore al traffico avevamo ve lo ricordate di fronte una città impazzita e avevamo Bari Vecchia che era completamente fuori controllo e io dissi Antonio dobbiamo chiudere al traffico Bari Vecchia e un giorno si sente bussare alla porta perché è cominciata così l'antimafia di Antonio De Caro sentite questa è l'origine vera bussa alla porta entra bianco come un censo e mi dice vedi che sono stato a piazza San Pietro e uno mi ha messo una pistola dietro la schiena non abbiamo mai sabut c'era veramente una pistola o un dito molto duro quel che è sicuro è che così è andata perché lui stava facendo i sopralluoghi per la ZTL di Bari Vecchia io l'ho presi in due andammo a casa della moglie della sorella di Antonio Capriati che era il boss di quel quartiere e io gli andai a dire vedi che questo ingegnere è assessore mio deve lavorare perché qui c'è il pericolo che i bambini possano essere investiti dalle macchine quindi se ha bisogno di bere se ha bisogno di assistenza te lo affido vi ricordo che dopo pochi mesi andiamo a sgombrare e lui c'era tutte le case dei Capriati che erano state confiscate a Piazza San Pietro e cominciò un cammino nel quale diciamo la verità noi non abbiamo mai criminalizzato il desiderio di queste persone di cambiare vita anzi noi abbiamo aiutato il desiderio di cambiare vita allora lo avete sentito se le frasi sono molto chiare molto esplicite poi Emiliano ha detto di essere stato frainteso 24 ore dopo è arrivata la precisazione del sindaco De Caro mai stato in casa della sorella del boss a onor del vero oggi alcuni quotidiani la verità il giornale e altri pubblicano questa foto la vedete la foto della trattativa il titolo è un po' forte come dire quello della verità la foto della trattativa PD mafia che è tratta da facebook del sindaco De Caro ecco il sindaco De Caro questa è la sorella del boss Antonio Capriati così dicono i giornali ed è tratta da facebook direttore Maz allora che cosa c'è di vero per quello che voi avrete indagato in tutto questo intanto smentiscono tutti smentisce anche la stessa sorella del boss dice di non aver mai visto il sindaco giusto bravissimo non l'avevo mai visto comunque non l'avevo mai ricevuto a casa poi l'avevo incontrato per strada ma non a casa sicuramente si è creato un polverone su un episodio dei contorni misteriosi però a dire la verità Emiliano questo episodio l'aveva già raccontato un paio di anni fa e in quella occasione nessuno l'aveva smentito ma non c'era non c'era l'indagine del ministero dell'interno non c'era l'inchiesta per presunta mafiosità eccetera eccetera erano altri tempi anche sicuramente erano altri tempi sicuramente il contesto in cui sono venute queste frasi dell'altro giorno è un contesto particolare perché a poche ore era stata nominata la commissione di accesso del ministero dell'interno proprio per verificare l'ipotesi di presunte infiltrazioni mafiose al comune di Bari poi magari sarà proprio la commissione ad accertare cosa è successo e sappiamo anche che la commissione parlamentare antimafia ascolterà sia Emiliano che De Caro su questo episodio è un episodio che però si colloca in un periodo particolare 15 anni fa quando il comune di Bari riconquistava la città vecchia che prima era un fortino inespugnabile adesso la città vecchia di Bari è uno dei fiori all'occhiello della città è sempre pieno di turisti è uno dei posti più sicuri 15-20 anni fa la situazione era completamente diversa non lo dico con un afflato giustificazionista però insomma probabilmente in quella fase bisognava anche un po' trattare Giovanna che te ne pare di questa storia un pasticcio no mi pare sei stato rapidissimo direttore hai sorpreso fin ancomi no 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 è stato chiaramente diciamo detto francamente Emiliano se lo poteva evitare perché se diciamo è una affermazione e il fatto che non si sia reso conto della gravità dell'affermazione anche questo sorprende è un magistrato eh Emiliano esattamente è un magistrato penso che abbia fatto proprio il magistrato antimafia lui peraltro e quindi diciamo poi appunto tutto è stato smentito resta la gravità dell'affermazione dopodiché però io sono anche abbastanza scandalizzata dell'uso che questa questo centrodestra fa della commissione antimafia e anche di questa vicenda della commissione d'accesso perché diciamo dobbiamo sempre ricondurre tutto a una nell'alveo di un che questo che in questo paese manca di una corretta dialettica fra maggioranza e opposizione adesso su Bari si è scatenata in vista della campagna elettorale perché si rinnova il comune fra tre mesi praticamente a giugno si è scatenata una lotta all'ultimo sangue anche con colpi bassi che compromettono anche il buon nome delle istituzioni perché la procedura di accesso con la nomina di una commissione ispettiva per eventualmente sciogliere un comune prima osteggiata da De Caro poi ben accettata ma è una roba serissima è uno degli strumenti che ha consentito spesso i luoghi molto inquinati della criminalità organizzata penso alla Calabria penso alla Sicilia penso alla Puglia penso anche al Basso Lazio se vogliamo riferirci ad Anze e Nettuno che sono gli ultimi comuni uno degli ultimi comuni sciolti per mafia ma è uno strumento importantissimo di contrasto contro l'inquinamento politico mafioso delle amministrazioni comunali e dei territori ma perché bisogna piegarlo a questo balletto che abbiamo visto idem perché adesso una commissione antimafia deve convocare Emiliano De Caro peraltro sempre su input dello stesso politico Brindisino di Forza Italia Dattis che era quello che è andato da piante dosi per chiedere alla commissione di accesso a Bari insomma io veramente questa politica fatta in questo modo utilizzando importantissimi strumenti e le istituzioni per logiche di parte francamente credo che sia non solo dannosa ma anche un po' pericolosa Francesco che te ne pare? Io sono d'accordo con la parte di Pervento dopodiché mi sembra oggettivamente che questo strumento è stato utilizzato decine di volte le norme antimafia piacciono tantissimo alla sinistra quando non riguardano loro io non so De Caro cosa abbia combinato come se si sia invischiato in qualcosa di poco trasparente dopodiché questi strumenti sono utilizzati normalmente sono stati utilizzati in comporti di decine di comuni nessuno si è sconvolto non capisco per che sconvolgerci in questo caso non trovo che ci sia un utilizzo politico in tutto ciò l'utilizzo politico è quel boomerang incredibile che ha lanciato Emiliano e che gli è tornato in testa a lui e a tutta la sinistra ma come ha fatto a dire quella frase con una torrezza sconvolgente come se avesse detto ho preso De Caro l'ho portato alla bocciofila perché in campagna elettorale si va anche in quei posti per raccogliere due o tre voti questo l'ho portato a casa della sorella del boss per metterci d'accordo per parlare di Bari Viecch che succeda questo in una campagna elettorale e mi sembra assurdo che un magistrato come Emiliano lo dica da un palco tendo per mano De Caro come se fosse la cosa più normale del mondo evidentemente io e buona parte dell'opinione pubblica viviamo in una realtà parallela in cui queste cose non sono gravi sono gravissime al netto di tutto questo De Caro ripeto che non abbiamo nessuna certezza evidenza su quello che ha fatto lui il carico da 90 l'ha messo il suo amico Emiliano stringendogli la mano non si sa con quale livello di consapevolezza l'abbia fatto perché essendo Emiliano un uomo intelligentissimo dubito che abbia fatto un'azione del genere senza pensare alle conseguenze che poteva avere sul suo amico che era lì accanto a lui detto questo cosa succede perché siamo stati tirati in ballo il giornale la verità e ieri sui social si ritrova una foto dell'anno scorso in cui c'è De Caro abbracciato alla sorella del boss e sotto c'è un commento di un altro parente del boss in calcio al posto e ancora tutto lì visibile che dice questa è roba nostra allora in una circostanza ecco la foto in una circostanza diversa se potremmo dire è una foto normale fatta in campagna elettorale da qualcuno che non sapeva chi stava abbracciando perché è evidente che qualunque politico durante una campagna elettorale incontra decine di persone e si presta a queste foto opportunity senza sapere chi esse possano essere ma alla luce di quello che ha detto Emiliano pochi giorni prima e della smentita che ha postato pubblicamente De Caro ieri questa foto come dire va vista con degli occhiali con una prospettiva con una luce tutta diversa che rimette in valo le dichiarazioni che sono state fatte da ambe e due e quindi dico non trovo un uso politico trovo che purtroppo la politica si è messa di mezzo di sinistra in questo caso ha fatto un po' un pasticcio professor Campi ma guardi sull'episodio 130 arresti questa è l'inchiesta questo è la dimensione dell'inchiesta credo che possa giustificare un intervento dell'antimafia per cercare di capire cosa stia dei due politici della centrodestra al di là diciamo che forse l'input viene dalla procura perché la dimensione dell'inchiesta è obiettivamente molto grande e lascia presagire un sistema inquinato di connivenza tra alcuni ambienti politici e una criminalità che diciamo non si nasconde la cosa che tra l'altro viene fuori abbastanza evidente io insomma essendo meridionale questa cosa ce l'ho un po' nel DNA in certe parti d'Italia la criminalità non si nasconde la criminalità è la persona che tu conosci che ti capita di frequentare sai perfettamente chi sono e spesso soprattutto nei momenti topici come una campagna elettorale quei mondi ti servono perché il consenso si costruisce anche così lo abbiamo visto in una molteplicità di occasioni adesso fa impressione perché c'è di mezzo il partito democratico detto questo io vorrei segnalare un problema ulteriore che è veramente il grande problema che secondo me ha il partito democratico e la sinistra in generale la vicenda di Bari e il modo in cui Emiliano la sta gestendo è la dimostrazione palese che qualcosa è sfuggito al controllo di questo partito il fatto che si siano potuti costruire sistemi di potere locali che sono tecnicamente dei cacciccati come si chiamavano una volta sul modello sudamericano dove poi tutto si confonde Emiliano ha avuto una capacità straordinaria di mettere insieme intorno a sé Emiliano è stato sindaco di Bari anche naturalmente certo mondi molto molto diversi con un trasversalismo sociale ideologico che non è inclusività è qualcosa di diverso vuol dire semplicemente creare potere aggregando e gestendo interessi che spesso sono incompatibili non sempre trasparenti questo vale per Emiliano il modello di Luca non è molto diverso in campagna Zaia io ci vedo un disegno politico diverso però la permanenza al vertice di quelle istituzioni non è problema di permanenza al potere è quello che tu aggreghi intorno al potere allora questi sono potentati che sfugono a qualunque controllo politico cioè Emiliano sta nella galassia del PD ma in realtà gioca per conto suo De Luca sta nella galassia del PD ma gioca per conto suo io vedo questo un grande problema politico che indica una disarticolazione completa tra i partiti che dovrebbero controllare i territori e i territori che invece ormai si sono resi totalmente autonomi creando sistemi di potere molto personalizzati molto personalistici e inevitabilmente poi afflitti anche da queste commistioni pericolose tra politica affarismo e ahimè talvolta anche criminalità organizzata Suto ma secondo me qui si sta veramente confondendo si tende a confondere i piani che è esattamente la strategia della destra in questa in questa vicenda la commissione che è stata aperta e che potrebbe portare eventualmente al commissariamento al scioglimento per mafia al commissariamento del comune di Bari è stata aperta per una inchiesta molto importante e molto grossa come veniva ricordato che però a quanto mi risulta finora non coinvolge nessuno dell'amministrazione De Caro anzi coinvolge due consigliere comunali che erano state elette col centro-destra e sono poi passate a sostenere la maggioranza ma che non avevano nessun incarico dell'amministrazione quindi non si capisce diciamo qual è la ragione che dovrebbe portare al commissariamento di quel comune è evidente che è una come dire manovra come diceva prima la collega Vitale che strumentalizza e sfrutta utilizza le istituzioni minandone anche l'onore in qualche maniera per fini per fini politici dopodiché si è aggiunto il polverone dopo le dichiarazioni di Emiliano che sono lo ricordo sono state fatte nel corso di una grandissima manifestazione della cittadinanza di Bari a sostegno di De Caro lì ha ragione il professor Campi quando evoca il fatto che nei territori si creano dei sistemi di poteri anche delle modalità di gestione del potere che anch'io considero assolutamente diciamo non idone anomale anomale dopodiché la vicenda evocata da Emiliano innanzitutto non è stata è stato smentito è stato De Caro ha smentito di essere stato lui a casa della sorella ma Emiliano ha confermato l'episodio ha confermato di essere andato non ha neanche tanto detto sono stato frainteso ha detto non avete capito quello che io sono andato a fare mi fa molto scusami 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 no 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 scusami un attimo un attimo Francesco siete in collegamento è difficile francamente 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 un attimo Francesco questo evocare questo evocare l'antimafia da parte di uno spettro politico di una situazione politica che ha avuto che ha avuto presidente del consiglio più volte indagato e in un caso anche condannato è Dell'Utri che sta in carcere e aveva dei rapporti con Silvio Berlusconi che è stato il vostro Francesco un attimo ma c'entra ma perché i pulpiti da cui vengono le prediche sono importanti quindi non si può fare un'indagine a vari non si può pensare di convissare un'indagine a vari perché Dell'Utri è stato in carcere ma cosa sta dicendo io l'ho interrotta mi perdono io l'ho interrotta fermatevi fermatevi grazie vai Cinzia allora la vicenda raccontata da Emiliano è assolutamente anomala nel modo di gestire il potere è un modo di gestire il potere locale francamente inadeguato dopodiché mi fa sorridere l'uso della parola trattativa ma scusatemi è andato a trattare in che senso che cosa ha offerto a questa sorella del boss mafioso non ho capito che cosa ci ha guadagnato la sorella e il boss visto che dopo pochi mesi sono stati confiscati tutte le case di proprietà di questa famiglia quindi le modalità di gestione di questo potere tipico degli uomini di potere spesso del sud ma non solo del sud di gestire il potere locale è sicuramente da abiasimare ma non ho capito mi dite chi ha utilizzato la parola trattativa mi dite che cosa ci ha guadagnato la controparte in questa trattativa la controparte mafiosa Un attimo Francesco Direttore Mazza a che punto è questa inchiesta? Io credo che manca un pezzo importante nel racconto perché non è vero che l'inchiesta che ha portato a 137 arresti un mese fa non riguarda il Comune di Bari perché tra i provvedimenti annotati dalla magistratura c'è anche il commissariamento giudiziale dell'AMTAB cosa è l'AMTAB? L'azienda municipalizzata dei trasporti del Comune di Bari interamente controllata al 100% dal Comune di Bari questa azienda è stata sottoposta dall'amministrazione giudiziaria perché c'è il sospetto che il clan Parisi uno dei clan di Bari Bari ha 14 clan attivi sul territorio cittadino non è una città mafiosa ma è una città dove la criminalità comunque ha un suo peso dicevo il clan Parisi avrebbe condizionato le scelte all'interno di questa azienda municipalizzata facendo anche delle assunzioni sarebbero almeno 5 i lampoli del clan Parisi assunti da questa azienda è stata sottoposta dall'amministrazione giudiziaria proprio per verificare la presenza di infiltrazioni mafiose e la commissione d'accesso antimafia nominata dal prefetto di Bari su input del Viminale serve proprio a questo è vero che non ci sono amministratori comunali indagati ma è anche vero che c'è un'azienda interamente controllata dal comune di Bari che è stata commissariata un mese fa perché c'è il sospetto di infiltrazioni mafiose è un sospetto che deriva dalla lettura delle carte dall'ordinanza di custodia cardellare che è eseguita dalla squadra mobile quindi è un sospetto che ovviamente andrà verificato è un'azienda che costituisce un po' il talenone d'Achille dell'amministrazione comunale di Bari perché oltre a questo sospetto di mafia c'è anche un problema di gestione proprio economica che porta questa azienda a perdere diversi milioni di euro ogni anno quindi insomma la questione va un po' contestualizzata ci fermiamo ci fermiamo un istante 9.21 direttore Mazze così chiudiamo questa pagina che riguarda Bari ci sono le europee di mezzo poi che forse vedranno de caro candidato mentre Emiliano se le cose restano così ha il suo ultimo mandato ci sono le europee di mezzo ci sono anche le elezioni comunali perché a Bari il 18 e 9 giugno ci vuole anche quelle comunali il centro-sinistra farà le primarie tra due settimane Emiliano resterà alla presenza la regione il suo mandato scade tra due anni c'è anche il dubbio che Emiliano possa tentare il terzo mandato visto che la legge elettorale regionale non impedisce in Puglia una terza di candidatura ed Emiliano resta a guardare mentre De Carlo sicuramente farà parte della partita del PD per le europee quindi la partita elettorale di Bari insomma si presenta molto complicata in una regione che proprio a pochi giorni dall'8-9 giugno dal turno elettorale poi ospiterà il G7 quindi insomma è una stagione un po' particolare al di là dei veleni di queste ore ti do la bella notizia che Bari è la città col miglior clima in Italia così dice la classifica del sole 24 ore potrà essere come dire a rasserenare un po' un clima politico almeno incandescente professor Campi oggi Alessandra Ghisleri sulla stampa in uno dei suoi osservatori dice che alle prossime europee ci sarà sostanzialmente un solo dato che spiccherà evidentemente che è il travaso dei voti da Salvini a Meloni perché diciamo a scenario costante come dire eccolo qui dovrebbe dovrebbe attendersi 26 seggi per Fratelli d'Italia e 8 per la Lega di Salvini in precedenza erano 6 per Fratelli d'Italia e 29 per e 29 per la Lega ti pare lo scenario più come dire questo spostamento con Salvini in grande difficoltà la questione di Macron vannacci che non sappiamo ancora che se si candiderà temo che i sogni politici vannacci siano già finiti per la resistenza che hanno posto le seconde file della Lega in realtà mi sembra che questo travaso sia già cominciato quindi diciamo le europee potrebbero confermare questo trend sono elettorato che si sta spostando verso Fratelli d'Italia da un po' io però aggiungo una cosa queste sono valutazioni che noi stiamo facendo a campagna elettorale per le europee sostanzialmente ancora non iniziata abbiamo avuto un annuncio di campagna elettorale perché ne abbiamo avuto altre di campagna elettorale no perché ancora non l'abbiamo capito non l'abbiamo capito quale sarà il tema dominante di queste elezioni per capirci noi veniamo da due appuntamenti per le europee quella del 14 e del 19 in cui c'è stato uno schema di gioco abbastanza semplificato ma efficace c'era il fronte cosiddetto degli europeisti una famiglia molto allargata liberali, popolari progressisti socialisti verdi che si contrapponeva al fronte cosiddetto populista quindi bisognava frenare l'onda del populismo per evitare che il processo di integrazione europea entrasse in crisi secondo me è uno schema che non potrà essere utilizzato nelle prossime elezioni europee primo perché i populisti di oggi sono un po' diversi da quelli del passato recente hanno smesso di essere frontalmente anti-europeisti sono trasformati in una cosa leggermente diversa il caso italiano da questo punto di vista è esemplare secondo c'è questo scenario di guerra che secondo me sarà il tema sul quale si dovrà fare campagna elettorale in un senso o nell'altro quindi questa è una fotografia degli orientamenti dell'opinione pubblica ad oggi io non so come si muoverà l'opinione pubblica quando i leader europei i candidati per l'europea i capi di partito cominceranno a fare campagne elettorali vere e proprie secondo me c'è uno scenario che potrebbe in qualche maniera modificarsi noi pensavamo di andare lo scontro elettorale per esempio ragionando molto di transizione ecologica di Green Deal è un tema che è totalmente scomparso dall'orizzonte è dubito che per esempio ricomparirà nella dialettica politica ci saranno altri temi per esempio accanto alla guerra il tema della tenuta sociale dell'Europa adesso abbiamo messo in stand by per esempio le rivolte degli agricoltori ma quello sono stato l'indicatore di un disagio che sta investendo grandi categorie sociali nel vecchio continente che hanno difficoltà economiche che si trovano marginalizzate o si sentono marginalizzate in campagna elettorale tutto questo alla fine avrà un peso quindi non so se alla fine questi dati verranno rispecchiati per esempio c'è un'incognita molto grande in termini anche di astensionismo perché tutto questo grande disagio questa grande paura potrebbe anche tradursi potrebbe anche tradursi sulla scia di quello che accade in molti paesi in un restare a casa collettivo che tra l'altro sarebbe anche un problema per l'Europa perché indicherebbe un distacco una disaffezione molto grande dal progetto europeo Cinzia Asciutto fino a un paio di mesi fa la conferma di Ursula von der Leyen sembrava pressoché scontata adesso i dubbi sono cresciuti Macron è stato il più esplicito qualche d'uno vede in campo una candidatura Draghi ci credi? Ma non lo so lo vedremo in effetti la campagna elettorale per le europee non è neanche iniziata salvo appunto alcuni alcuni accenni certamente Draghi ha un profilo che può essere molto spendibile e diciamo non si porta presso la zavorra di una commissione europea che non ha brillato in questi anni anche se diciamo per esempio si parla molto del fatto che durante il covid sono stati combinati diversi pasticci anche a livello europeo però c'è anche da dire che diciamo mettendo sulla bilancia tutto di quei due anni di covid forse l'Europa è alla fine il posto dove è stata gestita meglio la pandemia quindi insomma ci sono sempre tanti elementi da ponderare la campagna elettorale inizierà temo anch'io ed è gravissimo che in questa campagna elettorale il tema della transizione ecologica o sparirà o verrà utilizzato come per esempio ha fatto Salvini nella sua convention di sabato scorso con gli altri sovranisti europei verrà usato come una clava contro l'Europa giocando la carta della transizione ecologica che sarebbe un costo insostenibile soprattutto per alcune fasce della popolazione retorica totalmente falsata dal fatto che non si sottolinea mai abbastanza quando invece quanto sarebbero i costi di non farla questa transizione ecologica costi che stiamo già sostenendo perché dobbiamo far fronte praticamente ormai quotidianamente con le conseguenze del cambiamento climatico la siccità che ha già colpito in Spagna alcune zone sono già in stato di emergenza e che ha colpito anche alcune zone del nostro paese in Sicilia è già allarme siccità dovrebbe farci riflettere sul fatto che i costi di non farla questa transizione ecologica saranno per noi cittadini molto più alti di quelli che invece dovremmo sostenere per farli e questa retorica di questa Europa di questo Green Deal che sarebbe una specie di vezzo dei tecnocrati europei invece di essere la minima risposta ad allarmi che la comunità scientifica lancia da decenni ormai non stiamo parlando dati consolidati eccetera è davvero drammatico che questo non sarà un tema al centro dell'attenzione della campagna elettorale Francesco io temo che le problematiche europee saranno proprio fuori dalla campagna elettorale perché in Italia sarà solo un grande come anche negli altri paesi sostanzialmente solo un grande sondaggio per le diverse forze politiche in attesa dei prossimi appuntamenti credo anch'io tendenzialmente che il rischio sia questo come poi è stato praticamente per tutte le campagne elettorali europee forse come dire quello che è successo l'altro giorno a Mosca quello che sta succedendo sullo stacchiere internazionale potrebbe sprovincializzare un pochettino le elezioni europee che dovrebbero essere per definizioni meno o meno umbilicali tra virgolette dopodiché vedendo il sondaggio di cui parlavi più della Gisleri ci sono alcune cose interessanti innanzitutto è evidente non si può notare come alle scorse elezioni europee la lega forse impara al 34% che è il record storico raggiunto da Salvini salvini presi nel 2013 nel 2014 se non sbaglio la lega allora delle scopie al 4% per portarla al 34% e riportarla dove adesso nello stesso sondaggio sono solo due partite questo è piuttosto singolare che mantengono più o meno i voti e quindi i seggi raccolti nel 2019 perché il PD ha un lieve smottamento e a dispetto di tutto sono Forza Italia e il Movimento 5 Stelle cosa che trovo abbastanza singolare perché mi pare che nelle proiezioni della Gisleri sia i seggi che i voti siano gli stessi di 5 anni fa per tutti i due partiti forse è un dato che merita ad essere analizzato sei d'accordo Giovanna Forza Italia è in gran salute in questo momento il Movimento 5 Stelle sta cercando una forte caratterizzazione sulla pace a livello europeo perché questo è il tema sul quale insiste sempre Conte lì ci sono due derby sia a destra che a sinistra a sinistra è il derby tra chi prende un voto in più tra il PD e il Movimento 5 Stelle perché è sulla base di questi grandi test che poi si deciderà in prospettiva a chi deve aspettare la leadership chiamiamola come vogliamo forse campo largo campo stretto campo giusto insomma le definizioni si sprecano dopodiché a destra c'è il derby ormai tra Lega e Forza Italia nel senso come hanno dimostrato anche le ultime elezioni regionali sia in Sardegna dove Forza Italia è andata meglio della Lega sia in Abruzzo ancora una volta dopo Forza Italia è andata meglio della Lega chiaramente c'è Tajani che sta in qualche modo vorrebbe sfruttare questo abbrivio delle elezioni locali per fare diciamo diventare il secondo partito della coalizione tra l'altro oggi c'era una bella indiscrezione pubblicata sul fatto in cui praticamente sembrerebbe che la famiglia Berlusconi abbia sdoganato il nome il cognome per mettere anche il nome Berlusconi che ancora tira moltissimo in quell'area moderata nel simbolo di Forza Italia quindi è chiaro che lì ci sono insisto due derby che sono molto importanti tra l'altro anche per le rispettive famiglie europee perché diciamo ci sono tre formazioni al netto di popolari in testa poi subito dopo i socialisti che si contendono sul filo del seggio in più seggio in meno il terzo il quarto posto e quindi possono determinare anche gli assetti europei tu c'hai appunto identità e democrazia di Le Pen e Salvini poi c'hai Renew e poi c'hai i conservatori i liberali di Macron tanto per intenderci e poi c'hai appunto i conservatori di Meloni e lì tutto si gioca entro una manciata di voti tra l'altro questo spiega e chiudo anche il pressing che Renew ha fatto su Carlo Calenda respinto al mittente per fare una lista unica con Renzi e con più Europa perché solo così i centristi italiani hanno la possibilità di guadagnare qualche seggio in più anziché rimanere sotto la soglia del 4% e non prenderne nemmeno uno ma Calenda come sappiamo è sul punto irremovibile e già passa tutto per quei voti lì le differenze nei seggi europei perché bisogna vedere come si presenteranno azione Italia Viva e più Europa come saranno organizzati perché valgono 3, 4 3, 4 5 seggi a seconda di come sono riorganizzati se riescono a superare o non superare la soglia del 4% allora grazie a tutti i miei ospiti adesso c'è Coffee Break con Andrea Pancani l'appuntamento come sempre domani mattina alle 8 qui con Omnibus grazie e buon proseguimento di giorno e buon proseguimento di giorno a tutti i miei ospiti a tutti i miei ospiti a tutti i miei ospiti a tutti i miei ospiti